E' giallo sulla morte di ieri pomeriggio nella palazzina di via Santa Buona Vecchia a Treviso. Jefferson Gesualdo, 31 anni, ha perso la vita cadendo dalle scale di casa. La versione data alla polizia è un passo falso causato dalla paura per un cane sbucato da una porta. Un gesto fatale che avrebbe fatto ruzzolare il giovane deceduto per un forte trauma alla testa. Una versione tutta da chiarire, visto che la procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo indotto da altro reato. Jefferson Gesualdo viveva con la compagna nell'appartamento al piano superiore del complesso davanti a via del Galletto. Operaio alla Geox, da appena dieci giorni era diventato papà di una bimba. Nel tardo pomeriggio la tragedia, con il corpo riverso sulle scale, la polizia è chiamata sul posto per i rilievi della scientifica. Fuori, in poco tempo, si è radunata una piccola folla di conoscenti, parte della comunità latina ma anche della comunità nomade di Borgo Capriolo. Attimi di tensione con la stampa, allontanata più volte mentre procedevano i rilievi. In particolare pare non convinca gli investigatori proprio la causa scatenante, quel cane che avrebbe impaurito Gesualdo al punto di farlo precipitare dalle scale. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e se ci sono segni di altra natura sul corpo. Tra le ipotesi potrebbe esserci infatti anche un tentativo di riscossione di debiti con il volo nel vuoto del 31enne al termine di una collutazione.